Oggi pomeriggio su Radiosound Piacenza 24 è ospite Elvis Mancin, consigliere dell'Associazione Vetrine in Centro di Fiorenzuola, componente ed organizzatore degli eventi di cui vi stiamo per raccontare. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Sabato prossimo dalle 10 alle 19.30 che cosa succede nel centro storico di Fiorenzuola? Ci saranno gli affari in centro con lo sbaracco, tutte le attività commerciali aderenti all'Associazione Vetrine in Centro, che poi è organizzatrice dell'evento, potranno esporre il loro gazebo con le scontistiche e le promozioni. In concomitanza ci sarà anche la festa dello sport, sempre organizzata dall'Associazione Vetrine in Centro, quindi tutte, anzi la maggior parte delle associazioni sportive, scuole sportive di Fiorenzuola d'Arda, avranno la loro postazione in centro storico, quindi postazione promozionale e per aprire le iscrizioni ai corsi e nel pomeriggio si esibiranno a ruote in Piazza Caduti, facendo anche un corteo per il centro storico e dopo tutte le esibizioni, una dietro l'altra, comunque in Piazza Caduti. Prima di lasciarci però un'informazione in anteprima che riguarda un appuntamento di quelli imperdibili, sempre a Fiorenzuola. Sì, vorrei ricordare a tutti che sabato 12 ottobre, quindi il mese prossimo, per tutto il giorno si svolgerà il Florenzia Comics, è un evento ormai già molto conosciuto in tutto il nord Italia, appunto stratta il comics, quindi ci saranno cosplay e steampunk, ci sono i contest, i mercatini, le aree tematiche, quindi ci saranno aree tematiche come Star Wars, Harry Potter, gli eroi di multiverso e tanto altro, quindi mi raccomando non mancate anche sabato 12 ottobre. C'è una pagina ufficiale dove ovviamente informarsi per i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando mentre sono in giro? Sì, allora, ci sono due pagine Facebook, una è la pagina dell'associazione Vetri in Centro, quindi cercate Vetri in Centro, cliccate mi piace e lì diamo tutte le notizie, sia degli eventi che tutte le cose che succedono a Fiorenzuola, mentre la pagina dedicata all'evento è proprio la pagina Facebook Festa dello Sport Fiorenzuola. Sabato 14 settembre dalle 10 alle 19.30 nel centro storico di Fiorenzuola, appuntamento con la festa dello sport e lo sbaracco, un'intera giornata di sport e shopping, ne abbiamo parlato con Elvis Mancin, consigliere dell'associazione Vetri in Centro, Fiorenzuola, componente ed organizzatore evento. Grazie! Grazie a te, ciao!